Democrazia Solidale si propone come risposta alternativa alla diffusa proposta populista, oltre che all'idea che la politica possa essere strumento per il mantenimento e il consolidamento del potere. In una società in cui si è svilito il ruolo della politica e si è perso il senso del bene comune, Democrazia Solidale intende affrontare con lucidità e senza propaganda temi complessi come il lavoro, lo sviluppo, il decoro e la cura dell'ambiente, oltre che il tema dell'inclusione, le soluzioni abitative, le opportunità da offrire ai nostri giovani, il rimettere le periferie al centro. Occorre ripartire dal basso e creare connessioni valorizzando il dinamismo di base che è presente e vivo nella nostra città. Occorre ritornare a mettere al centro le persone, avere la pazienza di incontrare, ascoltare, parlare. Occorre stare insieme per il bene comune e impegnarsi per il bene della comunità. Tutto ciò è possibile, occorrono testimoni credibili e interpreti giusti. Con la forza del noi possiamo cambiare la nostra città e dare una svolta alla nostra comunità.